E' una sciocchezza assoluta, le mafie si sono sempre fatte forti dalla presenza del terrorismo. Pensate solo qua a Napoli o se volete voi che siete giovani andatevi a rileggere la storia della nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo e dell'alleanza che aveva fatto con la colonna napoletana e le brigate rosse Cutolo che produsse tutta una serie di morti, di omicidi e fu un fattore di accrescimento di potere di Cutolo almeno in quel momento storico.